Ciao ragazzi, questo è un nuovissimo video di Davias Wow Dovete subito lasciare un bel like, attivare la campanellina e iscrivervi al canale Quindi oggi vi faccio vedere la stagione 1 della stagione 2 di Walkie Dogie su Lion Quindi che aspettiamo? Andiamo, no? Era questo, no? Se non mi sbaglio Ok, andiamo su YouTube Porta online la tua attività e inizia a vendere con Shopify, la piattaforma e commerce scelta da oltre un milione di attività Ecco qua Sicuramente fanno anche quelli qui, eh? Dei cubi! Wow, dei cubi! Mi piacciono i cubi, vero? Mi piacciono di brutto i cubi Il cubo è un giocattolo veramente ignorante, però secondo me potrebbe essere un segno Quindi potremmo cercare, sì perché è tipico, un altro cubo E magari dentro, infatti, c'è... Come io non ho visto anche altri, eh? Mi ha avuto in paura! Ci mancano due, forse nel cassetto magari? No Ce n'è un altro qua di cubo, però Eh? Se il cubo è il segno Bella idea, sì, e infatti dentro c'è un altro pezzo Allora ci abbiamo Ah, ce ne manca uno allora Sei, cinque, altri cubi Ne manca un ultimo Forse dietro i metal detectors Sì, ci sono altri cubi qua sopra Vediamo un po' Un sette Perfetto, abbiamo tutti i codici Ok, perfetto, ci abbiamo tutto il cubo Ragazzi, scusate per un attimo intervallo ragazzi Eh, volevo assicurare Di mettermi a me, no? Ecco Un bel mi piace Se volete vi faccio vedere il mio canale, no? Perché il mio canale sarebbe, in teoria, questo qua Ve lo faccio vedere Andate su YouTube Va bene? Andate qua Sul mio Andate Il tuo canale E qua ci sono i miei video Due ore fa è un'ora Allora Vedete, questo è il mio canale Questo è il mio canale Oggi è il novembre E il video E questi sono i miei tre Da video Questo che lo stavo Continuando prima Ora Possiamo cominciare A guardarlo di prima Ok, ora Ora È finita l'intervallo È finita Perfetto, abbiamo tutto il codice Vai, mettilo Allora, amici State attenti, eh Perché più avanti potremmo ritrovare quei due porcelloni Allora, fammi controllare 6, 5, 8, 7 6, 5, 8, 7 Ah Oh, perfetto Oh Mi sento tutto Sporre Perché fai sempre schifo, eh Com'è possibile che fai così? Non sono stato io Mi hanno abbandonato No, sei stato te Ma non è vero Guarda E poi io so anche perché Perché stavi guardando gli schermi Poi ti è apparso il jumpscare di Agiwagi E ti sei cagato addosso È successo il jumpscare Questa confusione C'è che fa un rumore qui dentro Oh, un Agiwagi Oh, un Agiwagi Il pranzo Allora, io ti posso consigliare il menù per oggi, eh Perché non si è mai detto che noi lasciamo bocca su Mi dica pure Che mi sembri molto No, io no No, niente, no Invece questo qui Che mangia scogliattoli che muoiono di fame Quindi ha la grandissima Sarà molto tenero Giusto mio Sì, scogliattoli degli schermi sono prelimati Prego, prego Mi sono mancato e sei andato Non è finito Sei tornato te Eh, la cosa mi fa anche piacere Mi sei mancato Almeno lui non muoio di scogliattoli Non so che nessuno mi mangi più Perché ho molta paura Non è assolutamente vero che mi sei mancato Puoi anche risparire di nuovo Fatti mangiare No, l'hai detto Sei stato molto gentile Sì, ma tu non hai detto Ah, grazie, che bello Quindi me lo rimangio completamente Ah, sei stato gentile Sì Allora, vediamo di capire come fare ad andare avanti Qui siamo in una specie di sala di controllo Ci sta uno schermo con tanti jumpscare E una cassa E non c'è, vente, via, che cosa fai? Beh, tua sorella, non lo so Chiedelo a lei, ecco, magari Che non lo so, non ce l'ho Quindi non posso chiedergli Eh, fare una ai tuoi genitori Dobbiamo guardarle in telecamere per caso E poi domandaglielo, ecco, magari è una buona idea Allora, nelle telecamere ci stanno un sacco di aggiwaggis Però non capisco Magari forse devo spaccare il vetro Cosa dite? Posso spaccare il vetro? Ma tu dici che devi spaccare il vetro Ti dici una cassa Magari c'è qualcosa di utile per passare avanti E se ci sentono? Eh, ho capito Almeno un vetro potremmo Ma ci hanno già sentito tanto Ah, ha già capito Ci sono dei grappling hook Un po' come su aggiwaggis Che tu li usi un po' come mani E lo prendiamo anche noi? Secondo me assolutamente sì, guarda Ti prego duro quel giocchino? Cioè, ne prendo uno anche per male Se magari lo ritroviamo avanti È una buona idea Per quanto faccia scritto a tutti E poi si tu in mano addirittura? Sì, perché io sono ambidestro, hai capito? Quindi sono molto meglio di te Non sono così bravo io Adesso non mi ricordo più il codice Se... Era 6-5-8-7 5-8-7 Bravo Alex, usciamo Mamma mia che mi pare di scelta No, questo l'ho vista Io mi ha fatto cagare No, ma non si fa così però Non ci fa No, questa è una stupidaggine Non ci fa Ma chi gliel'ha detto di fare questa cosa Questa deficiente? Ma questa è scema in testa Quella è la dosso Oh, lo so già Ah, chissimi, sì Fatti curare Non lo fare mai più, va bene? Perché qua ci si caga a dosso Non è giusto Altrimenti Spawno 20 cobra Serpenti a solagli Va bene? Mi sa che ha capito però L'importante è che ha capito È quella che c'è nelle pareti Ne sono certi Eh, che cazzo Perché non è neanche Scusate ragazzi Ma ci sta Se vi dispiace Ci sta anche Il mio amico Mattias Wow Va bene? Seguite anche il suo canale Ora ricomincia È finito l'intervallo Vabbè Anche se non era un intervallo Ma vabbè È civile così, eh Secondo me Guarda, ho capito Dobbiamo passare così Dobbiamo passare lì Wow, come si fa? Così Oddio Ce la faremo meglio No, no, si fa Si fa Staccati attento Si fa, si fa Bisogna tirarsi su Bravissimo Wow, magico Ok, ce la fa anche lo segato Ma incredibile Deve essere veramente semplice Non credivo Guarda, c'è Mario C'è Mario, è ritornato di nuovo Grandi wagi Acci wagi Acci wagi Dai silenzio Silenzio tutti Idolate Idolate? Idolatrate Scusi Che cosa dovremmo idolatrare, per favore? Il grande acchi Ah Che è lui Oh, agchi wagi Oh tu, grande agchi wagi Guarda quanti Bei bimbi abbiamo portato per te Aghi wagi Aghi wagi Ma da quando è che è diventato completamente imbecille questo posto? Perché Che cosa facciamo noi? Guarda qui Oh, madonna Guarda qui Inquinatevi ad agchi wagi Forza, forza Aghi wagi Alex è già abbastanza inquinato Ciao, ti prego In giro Uh Ma cosa fai? Guarda qui Guarda qui Guarda qui Guarda qui Come si sta inquinando di brutto Ma Strescia di più Strescia di più tu Sì Strescia di più Allora, a me è garba a vedere Mario che fa così comunque Quindi lo lascerei stare lì Facciamolo fare anche a Sì Andiamo avanti Sì Sì Lui, voglio lui Lui deve stresciare Lui Quello blu No, quello blu Non ci piace Silenzio Quello blu me lo porto io Perché è esperto Esatto Noi andiamo vicini Quello blu Sì Sì Silenzio Eh Siete due caffoni Tutti e due Due caffoni Ok Questo qui Che si mangia la gente E fa anche schifo Quest'altra Invece Che ti appare alle spalle Strilla Ma cosa strilli? Cosa vendi? Il pesce? Eh? Vendi il pesce? Rispondi Rispondi Dice di no Ti dico di no Ti dico di sì Vendi il pesce? No Ecco E allora cosa urli? Faccia il giocattolo E mangia i bambini Ecco No Non si fa Allora non mangiare bene Mangiati questi due imbecini Tu sei un bambino strisciato No Che schifo Mario tu stai bene qui Sì Possiamo lasciarti No Non voglio venire con voi adesso No strisci e zitto Striscio No Benissimo Striscio Allora Alex Mentre loro strisciano Noi dobbiamo capire come procedere Perché la vede durata Allora qua è limita che non si può andare È chiuso Vedi Poi li veniamo anche a prendere poverini Sì è vero Qua sono chiuse le porte Intanto lasciamoli frisciare Comunque Si chiama il succo di pomodoro Comunque è più difficile di quanto pensassi Scappare da questo posto Anzi che anzi Però Che cos'è qua? Una specie di sala del papo Ragazzi Ora dovremo rivederci Ci vediamo più tardi con un altro episodio Ciao